E se arredassimo insieme il tuo salotto, rendendolo più accogliente, rilassante e decisamente più verde? Hai mai pensato che le piante possano venire in nostro aiuto per arricchire un ambiente così tanto importante? Paola, ma io non ho abbastanza luce, come posso fare? Ma il mio salotto è davvero molto piccolo, le piante non ci entrano. No, nessuna paura, perché in questo nuovo video ti mostrerò le mie 5 piante ideali per ogni tipo di salotto. Così da far contenti un po' tutti. Quali sono? Venite con me, scopriamolo insieme! Io sono Paola e se non ci conosciamo, benvenuti sul canale. E se anche tu hai finalmente deciso di rendere casa un ambiente più verde e accogliente, sei nel posto giusto! Sì, perché ogni settimana parlo di diverse specie di pianta, di come prendersi cura e non solo! Ma prima di cominciare, chiedo a te, sì, proprio a te, Che sei qui a gustare questo nuovo video, di iscriverti al canale, di lasciare un bel mi piace e condividilo quanto più possibile! E se invece sei, fra coloro, che già fanno parte del nostro bellissimo giardino, beh, ben ritrovato e grazie per i vari commenti e like che lasci! Perché servono come il pane per la crescita del canale! Ma cominciamo pure con... Ti dico subito che il singogno è una delle piante più facili, o forse la più facile, fra quelle che ti presento oggi di cui prendersi cura! Originaria dell'America tropicale, ha fra le sue caratteristiche quella di essere una pianta dalla crescita rapida. Non è ingombrante e si presta benissimo, nel caso in cui decidessimo di farlo, di appenderla nei vari punti del salotto. Provate a immaginare, ha una piccola parete arredata in modo da sembrare una vera e propria cascata verde. Interessante, vero? È una pianta da mezz'ombra, anche se non le dispiace un po' di sole diretto, a patto che sia quello un po' più delicato, che troviamo al mattino presto, o quello presente nei mesi più freddi dell'anno. Dal momento che in natura il singogno cresce sotto gli alberi, può essere una delle piante che trovano volentieri posto in quell'angolino non tanto illuminato e di difficile impiego. Parlando di substrato, Questo deve essere decisamente drenante e ben arieggiato. Aiutiamoci quindi con dei materiali inerti, come la perlita, zeoliti o carbone vegetale, e arricchiamolo con deltericio di buona qualità. Ricordati della temperatura ideale. Essendo una pianta proveniente da ambienti tropicali, si trova a suo agio in una compresa tra 15 e 25 gradi e con una percentuale di umidità di almeno il 60%. Per quanto riguarda l'annaffiatura, meglio aspettare che il substrato sia molto asciutto rispetto al normale. Non avere paura e aspetta pure quando sia lui a suggerirti quando è arrivato il momento ideale. Personalmente procedo in questo modo. Aspetto che le foglie si abbassino un pochino quando inizia ad assumere una posa un po' triste, significa che è arrivato il momento giusto per darle dell'acqua. Ricordati inoltre da utilizzare il metodo di immersione. Non è una pianta molto esigente. E anche con poca concimazione ha una crescita esuberante. Puoi tranquillamente concimarla una volta al mese e nei mesi più freddi interrompi completamente la concimazione, fin ad attendere la primavera. La riproduzione è facile come dividere il pane. Infatti, noi divideremo il pane, che è tutto questo apparato radicale della pianta. Basta che dividiamo le piantine e mettiamo in un altro vaso. Quando la pianta è piccola, quando la pianta è grande, questa non è arrivata a misura giusta, ma lei cresce ancora, ancora. Ho detto che è molto esuberante. Taglia un pezzettino e fai una talea. Si presta molto bene alla idrocultura, quindi anche per fare le piantine potete metterne l'acqua e fare le radici e poi mettete in un substrato. È una pianta che vive nelle calde fitiforeste della Tanzania. La loro particolarità è che è una pianta che non cresce tantissimo, rappresenta un vero jolly per quei salotti piccoli e non troppo luminosi. La sua struttura è simile a un'opera d'arte, con queste bellissime e lucide foglie di color verde scuro che contrastano rispetto a quelle più piccole che sono invece più chiare. Qualora queste bellissime foglie diventassero gialle, quasi sempre è colpa dovuta eccesso di irrigazione. Il mio consiglio è di annaffiare soltanto quando il substrato è totalmente asciutto. Ricorda che l'asameoculcas ha la sua riservina di acqua. In che modo? L'apparato radicale dell'asameoculcas presenta delle radici tuberose che hanno la funzione di immagazzinare l'acqua e i vari nutrimenti del substrato, quindi è particolarmente adatta a un ambiente più umido e con un substrato molto asciutto. Metti pure l'asameoculcas in un angolino protetto dai spifferi e sbalzi decorrenti e mi raccomando, cura attentamente l'esposizione luminosa. Questo genere di piante, infatti, adora la luce soffusa o filtrata. Dal momento che presenta queste foglie dall'aspetto lucido, il mio consiglio è creare un bel contrasto utilizzando un vaso più poroso dai colori più opati. Direi che si intona alla perfezione. Parlando di vaso, diamo anche un rapido sguardo al tema del rinvaso. Questo lo faremo ogni due anni, dal momento che è una pianta che cresce molto lentamente e che quindi non necessita di essere travasata come le altre. La riproduzione la faremo per mezzo delle foglie, proprio in questo modo. Visto che la foglia non ha ancora sviluppato un apparato radicale, bisogna prestare particolare attenzione al terreno, mantenerlo costantemente umido, oppure possiamo utilizzare il metodo della idrocoltura, forse il più indicato per coloro che sono alle prime armi. Attenzione, però, qualora decidessimo di coltivare le zambioculcas dal momento che essendo una pianta tossica, se hai degli amici a 4 zambi o dei bambini, il mio consiglio è di tenerla in alto. Se hai poco spazio, poca luce e poco tempo, o se sei una persona che viaggia spesso, questa è una pianta che farà proprio a tuo caso. La mostera deliciosa è una pianta originaria dell'America centrale e adora il clima caldo e umido. È un genere di pianta che ama ricevere una grossa quantità di luci, ma fai attenzione, tanta luce non significa luce diretta. Andremo a preferire un substrato ricco di materia organica. Il mio consiglio è quello di dare un sguardo a questo video che ho realizzato, in cui mostro passo a passo la creazione di un substrato ideale per questo genere di pianta. Parlando di annafiatura, direi che non c'è una regola ben specifica. Il metodo che utilizzo è quello di attendere che il substrato si asciughe per bene. Il tempo d'asciugatura dipende da moltiplici fattori, come ad esempio, nel caso in cui portassimo la nostra mostera all'aperto. Eh sì, perché io la porto fuori. Noteremo che il substrato tenderà ad asciugarsi più rapidamente. Allora, il mio consiglio è mettere il dito, andare un pochino in profondità, quindi aspettare che si asciughi i due o tre centimetri, poi puoi mettere acqua. Non bagnarla sempre, perché a lei non piace le radici troppo zuppa. Bisogna inoltre sapere che la mostera adora un substrato più umido, ma non zuppo, quindi è di fondamentale importanza che sia ben trinante. La mostera è una pianta decisamente importante e imponente, che ha bisogno di tanto spazio, visto che le sue foglie possono raggiungere e talvolta superare gli 80 centimetri di lunghezza. Grande, eh? Una particolarità di queste foglie risiede nelle loro lacerazioni. Lacerazioni che però compariranno nelle nuove foglie una volta che la pianta avrà raggiunto una certa dimensione. Questa particolarità ha una spiegazione del tutto logica. La mostera, in natura, essendo una pianta arrampicatrice, è facile trovarla nelle zone poste più in alto all'interno di una foresta tropicale. A causa di questa sua voglia nell'arrampicarsi, per catturare quanto più luce possibile, la espone però a quelle che sono le correnti di aria e dal momento che è capace di sviluppare delle foglie così grosse, le difende formando queste fessure che lasciano passare il vento senza che questo possa creare danni alle foglie. Una caratteristica di questa pianta dall'aspetto preistorico è quella di sviluppare delle radici aeree. Quindi è nostro compito munirci di un tutore facilmente reperibile nei negozi specializzati in pianta, affinché possa arrampicarsi senza nessuna difficoltà. Io la faccio ogni qualvolta vedo spuntare una nuova foglia. diciamo che è come se gli stessi dando un piccolo aiutino. Per te che hai un salotto grande, luminoso e vuoi una pianta che fa un figurone e che abbia un aspetto preistorico, la monstera fa proprio a caso tuo! E' una bellissima pianta originaria dell'America tropicale, molta pressata nella coltivazione da interno. Provenienti dal paese caldo, a me stare in zona dove la temperatura è più elevata. Quindi in casa la mettiamo in un posto più caldo in quelle zone tanto illuminate. Sole diretto! Sì, ma solo quello invernale o alle prime ore della giornata. Questo perché altrimenti quello più intenso potrebbe causare delle bruciature irreparabili. È una pianta che resiste bene anche in condizioni di scarsa luminosità, ma a parer mio è una condizione sacrificata per lei. Infatti farà fatica a sviluppare i fiori. Un vero peccato privarsene. Un consiglio che mi sento di dare è quello di rimuovere immediatamente le parti secche e morte della pianta. È davvero importante che tu lo faccia perché lei è soggetta a margione e ha tutte le conseguenze che ne derivano come le malattie e i parassiti. È una pianta che ama la compagnia quindi ti suggerisco di metterla vicino o all'interno del vaso in compagnia a altri. Proprio come io in questo caso adoro la compagnia della Diffembacchia anche perché ne condividi tantissime proprietà. Annafiatura È una pianta che ha bisogno di acqua con una certa frequenza. Per questo è importante che abbia un substrato aerato e drenante. Il suo punto debolo risiede sul fatto che è una pianta che soffre tantissimo lo stress idrico. Per coloro che non lo sanno lo stress idrico è quando una pianta riceve più o meno acqua del necessario. Ciò è facilmente intuibili attraverso il comportamento che la pianta ci mostrerà. Infatti potremmo notare un certo affrosciamento delle foglie e dei fiori. Non vi è soltanto l'eccessiva irrigazione infatti lo spattifilo soffre anche in condizioni in cui l'acqua scarseggia. Per questo il mio consiglio è quello di controllare bene il substrato prima di aggiungere dell'acqua una tensione che potreste non dico trascurare ma di sicuro avere meno noia nel caso in cui decidessi di utilizzare il mio substrato. Ah e ti ricordo che questo substrato è un composto da me creato quindi non viene sponsorizzato alcuna marca o produttore. Concimazione La concimazione la faremo ogni 15 giorni sia in primavera che in estate fino a tutto l'autunno. Nel periodo invernale invece dilateremo i tempi allungandoli del doppio quindi ogni mese. Lo spattifilo è una pianta molto ornamentale per questo lotto di media grande e piccola dimensione e sai perché? È una pianta che puoi trovare di varie misure e se non ti interessa il fatto che produca dei fiori puoi addirittura tenerla in un ambiente meno luminoso insomma è una pianta per tutte le esigenze non potevo non parlare di una delle più conosciute e apprezzate piante di appartamento La Diffenbachia è originaria dell'America meridionale ama le temperature comprese tra 15 e 25 gradi e necessita di una grande quantità di luci oltre alla temperatura ricorda di buttare un occhio anche alla percentuale di umidità cerca di non scendere mai sotto il 50 o 60 per cento La Diffenbachia infatti se ne ricevi poca puoi addirittura arrivare a bruciare le punte delle foglie Essendo una pianta dalle grandi foglie abbiamo bisogno di tenerla ben pulita dalla polvere un po' come accade a tutte le piante che decidiamo di coltivare in casa questa è fondamentale perché la patina di polvere che si crea sulle foglie ostacola il processo di fotosintesi fondamentale nel sviluppo delle nostre amiche verdi durante la bella stagione potete addirittura sfruttare il fattore pioggia e lasciare che si bagna un po' ma è fondamentale che una volta terminata la doccia venga posta in zona distante da raggio del sole diretti questo li farà un bene incredibile è una pianta bellissima con una grande varietà di sfumature che vanno dal verde al giallo fino al bianco e anche nella stessa pianta le foglie non sono mai uguali un po' come accade con lo spatifilo anche se ama ambiente ben illuminato puoi sopportare anche zone poche luminose ma è importante che tu sappia che a causa di ciò perderà queste variegature bellissime temperatura ideale la solita che vale per tutte le piante tropicali ossia quella compresa tra 15 e 25 gradi con un'umidità di almeno 60% il substrato da utilizzare per questo genere di pianta è quello che uso per altre piante tropicali ossia molto aerato e drenante ricorda che le piante tropicali pur ricevendo in natura una grandissima quantità di acqua dovuta a pioggia intensa frequenti l'accumulo di acqua è per loro fatale parlando di concimazione potete concimarla ogni 15 giorni e inverno una volta al mese per quanto riguarda la riproduzione è una pianta che si riproduce facilmente per talea oppure per mezzo della divisione del fusto nel caso in cui facessimo delle talea utilizziamo il metodo della idrocoltura in caso di divisione del fusto invece mettiamo direttamente la parte divisa all'interno del substrato deve assolutamente sapere che è una pianta molto tossica quindi in caso di talea o divisione del fusto meglio munirsi di guanti mi raccomando se hai animali domestici o bambini non lasciarla alla loro portata la macchiatura è la stessa degli spatifilum anche lei piega le foglie quando ha bisogno di ricevere dell'acqua è questo uno dei motivi per il quale ho deciso di metterli insieme proprio in questo bellissimo vaso e questi erano i miei consigli per arredare con un po di verde tuo salotto che che ti sia piaciuto e tal caso famelo sapere lasciandomi un bel mi piace se hai qualche domanda non esitare a chiedermi sarò felice di rispondere e di darte il mio aiuto se hai dei suggerimenti o vuoi semplicemente sapere di più su un argomento in particolare puoi iscrivermi su facebook instagram email o utilizzare lo spazio riservato ai commenti e se non sei iscritto iscriviti e condividi quanto più possibile il video questo è molto importante per la crescita del canale un grande grazie a coloro che ormai sono diventati parte di questo sempre più grande giardino un bacio a tutti ciao